Alessandro Fagioli, hai siglato il gol per l'Ancona Materica, la prima di campionato. Che emozione è stata, insomma, primo gol nella prima partita ufficiale del campionato? L'emozione è tanta, è rammarico il risultato. Questo è la cosa che ci dà più fastidio, questo gol alla fine, ci dà come peffa. Ci parla di tanto del gol. Infatti l'Ancona Materica alla fine poteva sperare di portare via almeno un punto per quello che si era visto in campo. Magari nel primo tempo c'è stato un grande pescara, poi nel secondo tempo voi Biancorossi avevate preso bene le misure del vostro avversario, l'avevate trovato grazie a te, insomma, la rete del pari poi in quella doccia gelata proprio al novantesimo. Sì, 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 ci abbiamo preso quel gol che, ripeto, tanto nervoso. Il quarto d'ora e il secondo tempo l'abbiamo approcciato bene, l'abbiamo approcciato, l'abbiamo fatto gol. Questo era il mortale, però questo gol alla fine che ci dà tanto rammarico. Comunque una cosa invece positiva è stata la presenza dei tifosi che non mi hanno veramente fatto mai sentire soli e che vi hanno accompagnato anche dopo il triplice fischio con un applauso perché comunque siete stati sconfitti ma quello che è mancato è stato il risultato perché l'atteggiamento c'è stato. Sì, 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 tifosi, un ringraziamento speciale a loro che hanno fatto tanti chilometri a venire qua a sostenerci. Questa beffa è tanto, ma speriamo che domenica in casa facciamo questo regalo ai tifosi.